Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, continua la serie dedicata alla DeFi. Oggi andremo a vedere come funziona la piattaforma di lending and borrowing per eccellenza, cioè Aave. Direi che non ha bisogno di tantissime presentazioni in quanto è veramente una delle piattaforme storiche della DeFi nata su Ethereum ma oggi è disponibile anche su Polygon e Avalanche. Nel particolare oggi andremo ad utilizzare Aave nella sua versione di test. Questo ci permetterà un po' come nel video precedente di PancakeSwap di andare ad operare senza troppa paura di sbagliare in quanto tutte le monete, tutti i token di questo tutorial sono in realtà senza alcun valore. Come prima cosa servirà avere degli ETH all'interno del proprio wallet. Come al solito io andrò ad utilizzare Metamask, giustamente uno si può domandare come faccio ad ottenere degli ETH in rete testnet. Allora innanzitutto parto col dire, ve lo faccio anche vedere, che andremo ad utilizzare la rete Covan. Covan testnet. Questa non è necessaria che la importiate in quanto Metamask in automatico ve la va a far vedere. Quindi Covan testnetwork è la rete che noi andremo ad utilizzare. Vedete che io in realtà ho già 0.0015 ETH in questo account. Come fate per ottenere anche voi i vostri? Esistono due link che sono dei FASO che vi danno un pochino di ETH. Il primo è questo qui, tutti i link tanto ve li lascio in descrizione. Questo qua richiede l'iscrizione, quindi dovete per esempio loggarvi con Twitter. E ovviamente è possibile fare una sola richiesta ogni 24 ore. Altrimenti c'è quest'altro sito, ETH Drop, dove mettete il vostro indirizzo, risolvete un captcha, che vi dico è veramente difficile, penso di essere stato qua almeno 15 minuti a risolverlo, giuro. E poi vi invia il collo quantitativo di ETH. Quindi vi consiglio, se potete, questo qua, Gitter, altrimenti ETH Drop. A questo punto ci recchiamo sulla pagina ufficiale di Aave e andiamo nella sezione More, FASO, e selezioniamo ad esempio DAI e premiamo su FASO. A questo punto si aprirà Metamask che ci chiede chiaramente di confermare la transazione. Ecco che è andata a buon fine, infatti nel nostro Metamask, nella sezione Activity, vediamo che c'è stata la transazione Mint che è andata a buon fine. Che cos'è che abbiamo fatto con questa operazione? Ci siamo fatti regalare un po' di DAI, ovviamente questa operazione è possibile solo perché siamo in una testnet, non è che Aave si metta a regalare cripto a tutti. Come vi avevo già spiegato nel video su PancakeSwap, io in realtà non vedo i DAI e questo perché Metamask non importi in automatico i token. Come faccio per vederli? La strada che secondo me è migliore da seguire è, basta andare nell'Activity, premere sulla transazione che appunto abbiamo appena effettuato, freccina che ci porta sull'Explorer, in questo caso Etherscan, e vedete qua in Tokens Transferred che c'è DAI. Allora noi andiamo a premerci, ci si apre la pagina del token, copiamo il contratto e lo andiamo ad aggiungere, come vi avevo già fatto vedere, quindi Import Tokens, copiamo il contratto, lo aggiungiamo ed ecco che infatti lui mi fa vedere 10.000 DAI, quindi io in questo momento ho 0.0013 ETH e 10.000 DAI. A questo punto andiamo su Markets, quindi torniamo su Aave e incominciamo effettivamente ad utilizzarla. Che cosa possiamo fare? Su Aave le operazioni possibili sono due, quindi non è che ci si può tanto sbagliare. O si depositano le proprie cripto e su tali cripto depositate si generano degli interessi, oppure si prendono a prestito delle cripto, però prima bisogna averle depositate. Perché? Perché Aave permette il borrowing, permette quindi di prendere a prestito le cripto, se si ha un collaterale già depositato su Aave stessa. Quindi noi adesso andiamo a fare proprio questa operazione, andremo a depositare i nostri DAI come collaterale e andremo a prendere a prestito un'altra cripto, RedBitcoin. Potevamo scegliere altre cripto, ma decidiamo RedBitcoin. Quindi la prima cosa da fare è premere su DAI, ci aprirà la pagina relativa a DAI e già qua possiamo vedere una serie di dati di nostro interesse. Nel particolare noi stiamo andando a depositare i nostri DAI, quindi ci interesserà questo deposit APY che sta ad indicare proprio la percentuale di interesse anno che noi andremo a ricevere. Ora qui leggiamo 0% semplicemente perché siamo in testnet e come vi ho già spiegato i valori sono completamente scorrelati dalla mainnet. Detto questo noi andiamo a premere su deposit perché abbiamo già deciso di depositare i nostri DAI, li andiamo a depositare tutti, quindi tutti e 10.000, premiamo su continue, approviamo la transazione, infatti vi avevo già detto che ogni qualvolta che interagiamo con uno smart contract per la prima volta, prima di poter effettivamente interagire con lui, è necessario approvarlo. Infatti adesso abbiamo appena confermato la transazione di approvazione dello smart contract e a breve ci chiederà invece di confermare, ecco qui, adesso premiamo su deposit e ci chiederà nuovamente di confermare la reale transazione. Purtroppo siamo su Ethereum quindi non dimentichiamoci che anche nella rete testnet comunque le transazioni non costano pochissimo, non costano come nella mainnet ma comunque non costano poco, quindi gli hit che vi vengono dati dal fassone non vi permettono di fare un miliardo di operazioni. Qualcuna sì, quelle che stiamo vedendo qua sì, ma non troppe altre. Vedete che è confermata, se ora premiamo su dashboard e ci posso arrivare anche andando nella sezione my dashboard in alto, vedete che io ho i miei 10.000 DAI depositati che mi rendono un APY dello 0%. Ovviamente in questo momento è come se non mi rendessero niente, quindi sarebbe anche un po' inutile depositarli ma noi stiamo giocando in testnet quindi di questo non ci interessa. Qui vediamo il nostro bilancio approssimato, tenete presente che nel momento in cui l'APY fosse positivo lo vedremmo salire in real time perché non è 10.000 dollari, questo perché DAI comunque può oscillare un po' benché sia una stablecoin e poi ricordo siamo in una testnet, non è detto che i valori siano accurati. Attualmente però vedete che nella sezione borrow information non abbiamo nulla perché in realtà non abbiamo preso nulla in prestito e quindi possiamo andare a premere su borrow now. Ci premiamo e come vi avevo detto prima prendiamo a prestito Wrapped Bitcoin, quindi io vado a premere su Wrapped BTC e qua che cos'è che è noto di interessante? Stable borrow APY e variable borrow APY, uno del 3,32% l'altro dello 0,25%. Questi due sono proprio i tassi di interessi con i quali il nostro debito cresce di anno in anno. Perché sono diversi? Perché sono di un diverso tipo di approccio. L'approccio stable borrow APY ti permette di avere un APY che rimane piuttosto costante nel tempo quindi che non oscilla in base alla domanda e offerta del mercato ma comunque può cambiare nel senso che non è che una volta stabilito quello rimane quello per sempre solo che non cambia di giorno in giorno ma cambia sotto periodi più lunghi. Il variable borrow APY invece cambia proprio di blocco in blocco in base alla domanda e all'offerta quindi dipende anche che tipo di rischio volete assumere e anche per quanto tempo pensate di mantenere aperto il debito. Qui sotto vedete possiamo scegliere quanti Wrapped BTC andare a prendere in prestito ovviamente potremmo mettere max ma vedete qua sotto che il rischio è altissimo quindi ipotizziamo di volerci mantenere molto cauti e quindi andare a mettere un fattore di rischio tendente al safer premiamo su continue qua ci fa scegliere vedete che tipo di strategia andare a ottenere tenete presente che lo stable APY è disponibile solo su Ethereum se andate su Polygon o Avalanche non potete fare questa scelta ma direttamente andrete a scegliere variable APY per forza di cose adesso anche io sceglierò variable APY tra l'altro qua vi da una breve spiegazione premiamo su continue a questo punto premiamo su borrow ecco che si apre come al solito Metamask andiamo a confermare ok a questo punto premendo su dashboard ci riporterà dove eravamo arrivati prima ma questa volta abbiamo da una parte il nostro deposito in DAI che tipicamente cresce nel tempo con gli interessi dati da questo APY attualmente lo 0% infatti è immobile dall'altra abbiamo la versione borrow quindi questo è quanto noi abbiamo preso in prestito e ovviamente questo 0.25% di APY è l'interesse con cui il debito annualmente cresce vi voglio fare capire bene questa cosa qui noi che abbiamo preso in prestito questi red bitcoin adesso ce li abbiamo proprio nel wallet ovviamente come al solito noi non li vediamo nel nostro wallet ma questo è semplicemente perché ripeto Metamask non li importa quindi se andiamo in activity premiamo sulla transazione che abbiamo appena fatto freccina per andare nell'explorer ecco che vediamo i red bitcoin ci andiamo a premere così apriamo la pagina del contratto copiamo l'indirizzo e lo aggiungiamo su Metamask come fatto prima quindi lo aggiungiamo ed ecco che infatti lui mi riconosce i miei red bitcoin quindi quello che è interessante da capire è che questo prestito che io ricevo è proprio nel mio wallet e ci posso fare tutto quello che voglio ovviamente non potrò mai ritirare i miei DAI o meglio non potrò mai ritirare tutti i miei DAI fino a che non ho ripagato tutto il mio debito altrimenti ci sarebbe un problema di fondo un'altra cosa alla quale vi voglio far prestare attenzione è la liquidazione infatti noi abbiamo preso a prestito bitcoin ma dobbiamo stare sempre attenti che la quantità che noi abbiamo preso in prestito sia minore di una certa soglia che viene definita soglia di liquidazione oltre la quale veniamo liquidati questo cosa vuol dire? vuol dire che ci ritroviamo con i nostri red bitcoin nel wallet ma perdiamo gran parte del collaterale più una fee cioè una commissione che è appunto la penalità per essere stati liquidati andando a premere su details qua possiamo vedere il current LTV LTV vi ricordo vi ho già fatto vedere in un precedente video sta per loan to value che in questo caso è al 18% quindi molto basso infatti avevamo scelto di stare molto sul sicuro mi dice quant'è il massimo LTV al quale posso stare ed è al 75% quindi vedete che sono veramente molto molto tranquillo io e poi mi dice liquidation threshold 80% vuol dire che se il nostro LTV supera l'80% partono le liquidazioni cosa vuol dire? ve l'ho spiegato prima voi vi perdete il collaterale ma vi rimane l'asset che avete preso in prestito più una fee di penalità che andrete a pagare e che vi viene trattenuta nel collaterale stesso e quindi qua poi vi dà delle cifre per farvi capire un po' meglio quindi questo qui è fondamentale da tenere sotto osservazione perché se invece di essere stati prudenti come ho fatto io adesso avessimo scelto una collateralizzazione magari al 70% una piccola fluttuazione in Bitcoin cioè se Bitcoin fosse aumentato di valore come sta magari facendo in questi giorni è rischio di essere liquidato per aiutarci in questo cioè per gestire meglio la nostra liquidazione ci sono dei tool come questo qui HAL vi lascerò poi il link in descrizione che ci consente sostanzialmente di mandarci degli avvisi nel momento in cui il loan to value raggiunge certi tipi di soglie che magari ci impostiamo noi quindi vedete qua basta mettere il vostro indirizzo qua sceglie vedete f factor minore o uguale o maggiore di e qui mettete un valore e poi potete selezionare di ricevere una mail oppure se avete un bot su Telegram vedete potete utilizzare anche Telegram quindi è molto comodo c'è anche ma solo su Ethereum DeFi Saver che è una piattaforma DeFi che va proprio a gestire in maniera automatica le liquidazioni però qui la cosa è diversa perché ci si sta appoggiando proprio ad un'altra piattaforma decentralizzata quindi ci sono altre tipologie di rischi perché ci si appoggia anche a questa e comunque ripeto è disponibile solo su Ethereum quindi se la utilizzate ad esempio su Polygon, su Avalanche non potete utilizzare DeFi Saver spero che abbiate capito tutto con questo video di oggi se avete dei dubbi non esitate a lasciarmi un commento anzi veramente lo apprezzo tanto e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti